eccolo 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 il barra è però andava troppo piano bisogna recuperarlo più veloce altrimenti il barra non attacca ah ah bocca mi saia ah muovi shhh No, no, no. C'è, 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 ragazzi, hai visto come ho fermato l'artificiale, tac, preso, è un barro. Allora, lasciamo, dai. Sì, va bene. E' vita, no? Sì, non è tanto grande. Non gli hai fatto male? Ma no, no, l'ho preso sul muso. Un barro piccolino. Sì, peschiamo quando fregono. Ehi, bravo, mi ha fatto la doccia, oh. Aia. Non c'è il pezzo. No, mi serve lo straccio. E' allora lo prendo. Ocala, c'è la spugna dietro di te? No, no. Mi serve lo straccio. Ok. Vieni un po' qua. Vieni un po' qua. E se no mi scivola. No, ma puoi scusa? Eh sì. I barra sono poco vitali. Dai, dai. Ok, andato. Andato. Bucchetto sulla mano. Eh, restano un po' tramortiti. Però, dai, questo qua non era tanto grande. L'altro era un po' più grande. Non capisco, c'è corrente? Ma... Non riesco a capire da che parte tira. Mazzate missile che ho lanciato. Dove l'administra? Non mi farà? Dove l'administra? Ale, c'è. No. C'è, 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 c'è. Che cosa? Che è un po' qua? No, penso un bar. C'è, c'è, qualcosa c'è. Ma con quella tecnica sui due. No, no. No, no. Penso un bar. No. ... penso un bar, bello anche, guarda che c'è l'altro sotto, guardalo, guardalo, lo teniamo, dai, questo lo teniamo questo è bello, attenzione a lei, c'è, no, ah si è slamato, si è slamato, si è slamato, mannaggia grazie a tutti a 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